Ciao ragazzi, so che stiamo vivendo un momento molto difficile tutti, qualcosa che nessuno di noi avrebbe mai potuto immaginare. Non ci resta quindi che essere responsabili e seguire tutte le istruzioni che ci vengono fornite dalle istituzioni. Possiamo però cercare di non fare un'altra cosa, di non dimenticarci delle persone che ricorrono a frequenti trasfusioni di sangue, spesso come unica terapia salvavita. Io sostengo la campagna Magnifico Donare a favore dei pazienti che soffrono di sindrome mielodisplastica e beta-talassemia. Queste sono giornate difficili anche per loro. Vi invito quindi ad andare a donare e ricordarvi che donare è un gesto magnifico. Se volete sapere come potete donare nelle vostre città potete andare sul sito www.avis.it e ricordatevi che è un magnifico donare a te, adesso e sempre. Ciao ragazzi!